Ho notato come la gente percepisse questo voto non come un voto verso un partito ma per raggiungere un obiettivo più grande ancora che è quello di riuscire a cambiare questo nostro Veneti in modo migliore. Una grande manifestazione di democrazia dalla quale arriva un inequivocabile messaggio su quella che è la volontà dei Veneti. In regione si respira soddisfazione per i risultati del referendum sull'autonomia. Dare un segnale chiaro alla politica sia regionale ma anche a quella italiana che non vogliono continuare così e che vogliono cambiare lo status quo che vede sprecare risorse della regione Veneto. Roberto Ciammetti ha anche espresso l'auspicio di un consiglio regionale in cui ora le contrapposizioni lasciano spazio ad un fronte comune per il raggiungimento pieno della richiesta espressa dagli elettori, un invito rivolto anche al fronte della stensione. Ora dopo il consenso su questo referendum e dopo che si è scelta l'autonomia come strada vincente vengano ritirate le proposte di legge per la secessione. Il dato politico è comunque inequivocabile apre un processo che segnerà l'agenda politica dei rapporti tra il Veneto e lo Stato centrale. Devono essere ascoltate tutte le autonomie locali, va fatto un negoziato con il governo, va steso un accordo, questo accordo poi va alle Camere e deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere.